Un ultrasnappoletano condannato e uno assolto al processo che si è celebrato con rito abbreviato davanti al Tribunale di Roma sugli scontri scoppiati il 6 giugno 2020 al Circo Massimo durante una manifestazione Novax, cui presero parte gruppi neofascisti e frange estremiste della tifoseria provenienti da diversi città. Il processo, in parte svolto con il rito abbreviato, si è concluso con sette condanne e due rinvie a giudizio, tra cui Fabio Coradetti, figlio della compagna dell'ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e tre assoluzioni. Il GUP Tamara De Amici ha disposto anche il pagamento di una provvisionale da 10.000 euro alla FNSI che si era costituita a parte civile nel procedimento giudiziario in cui erano imputate oltre una decina di persone. Durante gli scontri infatti vennero aggredite le forze dell'ordine ma anche diversi giornalisti e il cronista freelance Thomas Cardinali rischiò di perdere un occhio all'ultras napoletano Giustino Zecconi. Di 45 anni sono stati inflitti 3 anni e 20 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di resistenza pubblico ufficiale e violenza privata nei confronti di alcuni cronisti. Tra i tre imputati assolti figura il tifoso azzurro Carlo Misurata, 41 anni, del gruppo Mastiffs.